il bambino flemmatico porta con sé una relazione vorrei dire leggera con il proprio corpo come se nel prendere possesso del corpo che avviene a scendere diciamo dalla testa lui arrivasse solo fino alla zona oculare e l'unica tensione fosse quella della zona oculare per questa ragione tutta la relazione anche con l'ambiente intorno rimane leggera il bambino percepisce molto quello che viene dentro di sé percepisce molto tutto quanto quello che lui può portare a sé soprattutto per quanto riguarda la nutrizione ma ha poca relazione con l'esterno e la tendenza proprio per la per la tensione oculare per la tensione in questa zona è quella continuamente di sognare o addirittura di addormentarsi il suo il suo comportamento quindi è un comportamento che va un poco un poco svegliato altrimenti il rischio del bambino flemmatico naturalmente non sto parlando né di violenza né di durezza ma va aiutato a trovare una direzione nelle forze di volontà il rischio sarebbe quello che il bambino si chiuda e quindi diventi nel poi nel seguito della sua vita inconcludente non non abbia voglia di fare non abbia voglia di impegnarsi non frequenti una scuola o si fermi laddove c'è fatica laddove deve sentire la fatica che nasce nell'applicazione della propria forza muscolare a qualche cosa se però le cose vanno bene se viene il bambino viene aiutato in questo senso il bambino può sviluppare una calma attenta piena relazione con l'esterno il che lo rende per esempio un maestro meraviglioso o una maestra meravigliosa che si occupa davvero dei bambini con cui ha a che fare che davvero li fa sentire sicuri nel nido calmo delle proprie forze rivolte al bambino con interesse pedagogico il il bisogno come bambino piccolo è quello di venire aiutato a poco a poco a riscuotersi da questo mondo direi soprattutto che bisogna lavorare sul senso del tatto bambino dovrebbe avere intorno dei giocattoli di legno dei giocattoli che abbiano anche una massa una massa anche pesante giocatti adatti adeguati naturalmente al bambino giocattoli di legno dovrebbe poter plasmare da piccolo della della cera d'api materiali naturali dove siano coinvolti molti sensi anche il profumo il colore e tanto d'altro e poi ha bisogno di avere una varietà percettiva del senso del tatto vuole dire qualche cosa che sia ruvido qualche cosa che sia morbido qualche cosa dove può immergere le mani può essere per esempio giocare con la sabbia può essere tutto quanto quello che comunque gli dà un certo impegno anche di carattere fisico quando l'adulto ha già sviluppato già stabilizzato per così dire quello che è il carattere flemmatico solitamente è un adulto che volentieri diciamo le sue situazioni ideale sarebbe una birra la televisione e stare lì così e basta ecco per cui per il flemmatico è importante sviluppare un interesse caldo per ciò che è intorno e l'esercizio che vorrei dire per il flemmatico dovrebbe essere anche come proprio sviluppo proprio di se stesso delle proprie risorse quello di accorgersi sentire il momento nel quale c'è la tendenza a sognare e dare una direzione per esempio una passeggiata nel bosco sogno come bello dare continuamente un qualche cosa che sia una direzione per cui ecco concludendo si può dire che il flemmatico dovrebbe riuscire dal mare immenso delle sue forze di volontà dove tutto si muove ma senza trovare una direzione riuscire a trovare una direzione che gli possa far permettere e possa permettere di sentire la propria identità che si rivolge con interesse verso l'esterno che si rivolge con interesse verso l'esterno